guarda bello ve lo posso mettere in fronte no è il mio telefono ecco lo posso mettere in testa di lato ok dai questo si è incollato carina poi la metteremo sull'albero mettiamola qui dentro nel frattempo aspettate fatemi allora mettete like si lo è però mi dispiace felicemente sposata con mio padre tra l'altro quindi fate i seri fate i bravi bella oggi dove ci troviamo a casa mia eh non ti interessa figurati a me come si vede male vabbè adesso ti blocco mi sa che sei andato oltre come si vede male vabbè adesso ti blocco mi sa che sei andato oltre come si vede male vabbè adesso ti blocco mi sa che sei andato oltre come si vede male e e e e e